Salve a tutti amici, benvenuti da Stefano Ghetti. La situazione meteorologica non riesce a guarire, non torna la stabilità atmosferica perché abbiamo una depressione a ovest dell'Italia, nella prossima settimana addirittura arriverà anche aria più fredda, le cose si complicheranno ulteriormente, insomma ci attendono alcuni giorni di tempo decisamente instabile e come ho detto con l'inizio della prossima settimana anche con temperature in generale diminuzione. Intanto per quanto riguarda la giornata di sabato, nuova perturbazione, dunque di nuovo tempo molto instabile su gran parte d'Italia, soprattutto al centro nord dove torneranno le piogge, tornerà qualche temporale al centro Italia, tornerà a cadere la neve anche sulle Alpi, insomma una situazione, ripeto, del tempo davvero molto molto instabile. Le temperature faranno registrare una generale diminuzione specialmente al centro nord, ma una diminuzione si farà sentire comunque anche al sud dove il tempo non sarà certo splendido, come continueremo ad avere anche su queste zone nuvi qualche pioggia sparsa. Nelle successive 24-48 ore questa perturbazione insisterà ancora su gran parte d'Italia, comincerà dalla tarda giornata di domenica probabilmente a liberare i cieli dal nord ovest, mentre rimarrà molto instabile sul resto d'Italia con temperature in ulteriore lieve diminuzione. Una diminuzione, ripeto, che si farà sentire soprattutto con la prossima settimana quando il tempo si manterrà più instabile sulla fascia adriatica del centro al sud con neve anche a bassa quota. Ne riparleremo, restate con noi, a più tardi.